segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te buonasera Gianluigi Paragone buonasera buonasera allora Paragone tutti sappiamo la storia personale diciamo di Gianluigi Paragone dalla televisione ai 5 stelle poi a un'uscita anche qui verso un'area diversa da quella che è stata la traiettoria del movimento sino alla lista di Italexit come definirebbe Gianluigi Paragone Italexit? Sicuramente una forza radicale antisistema oltre le convenzioni politiche e questo ovviamente già anche nella targa del movimento stesso, del partito stesso il fatto di essere l'unica forza politica che richiami una intenzione, una finalità di scopo così chiara rispetto all'Unione Europea è già di per sé sinonimo di una garanzia circa la tenuta di una tesi poi può piacere come non può piacere però è una tesi allora però Gianluigi Paragone ci troviamo ovviamente in una fase siamo nella giornata finale della campagna elettorale a cosa mira Italexit, cosa vuole ottenere, quali sono i punti fondamentali del programma e cosa sono le cose che ha riscontrato in campagna elettorale vorrei andare su questo filone innanzitutto mettiamo che come può succedere ci sono persone che hanno detto fino all'ultimo giorno non decido oggi l'ultimo giorno della campagna elettorale perché bisogna votare perché Italexit e non il centrodestra perché Italexit e non il centrosinistra o non il Movimento 5 Stelle o non il terzo polo o non Unione Popolare è quasi tema libero nel senso che è una domanda che mi consentirebbe anche molteplici risposte proviamo ad analizzarne alcune allora l'aiuto io per prima cosa l'obiettivo è sicuramente superare l'asticella del 3% di entrare in Parlamento e portare un pezzo di stanze che nel Paese ci sono e portarle nelle istituzioni questo credo che sia già un buon segnale per la tenuta democratica nel senso che c'è un popolo degli abissi che è in sofferenza che rischia di pagare un prezzo altissimo delle varie crisi non ultima questa sul caro energia quindi portare un pezzo di questo popolo degli abissi dentro le istituzioni credo che sia già un primo risultato ecco portarlo però fuori dall'Europa perché sennò il nome non avrebbe senso quell'exit da dove esce? non da dove esce il nome verso dove cosa lascia per andare dove? esce da un'Unione Europea che io considero essere non conveniente per gli italiani non conveniente per il Made in Italy per la sua tutela per la tipicità io credo che alla lunga il modello su cui ci ha spinto l'Unione Europea che poi tra l'altro è anche diverso da Europa noi sovrapponiamo convenzionalmente le due questioni però per esempio la Norvegia è Europa ma non è l'Unione Europea però la Norvegia ci sta vendendo una dose di gas da primato è il playmaker principale il primatore nelle esportazioni del gas dopo la chiusura di fatto del rubinetto russo quindi la Norvegia è un classico esempio di un paese che non è nell'Unione Europea non è tantomeno nell'Eurozona ma è nell'Europa quindi quando noi parliamo di Europa noi ovviamente facciamo riferimento all'Unione Europea questa sovrastruttura io lo definisco un metastato un metastato che ha snaturato quella che è l'intelaiatura dell'impresa italiana dell'industria italiana dell'economia italiana non posso non ricordare la frase beffarda a riguardarla oggi di Romano Prodi grazie all'Europa noi lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo come se avessimo lavorato un giorno in più bene io penso che proprio sul tema del lavoro sul tema della piccola impresa l'Europa è stata cattiva altro che una buona mamma è stata decisamente cattiva perché tende a snaturare quelle che erano le dinamiche di distretto la piccola impresa italiana giocava su alcuni fattori tipicamente italiani tra l'altro studiati anche all'estero cioè noi avevamo una cultura della micro impresa piccola impresa grandi sfide che nascevano dai laboratori magari dalle terrazze di casa dai garage perché anche noi avevamo i garage dove si elaborava un prodotto nuovo che poi sarebbe andato a conquistare i mercati internazionali poi l'evoluzione il capannone le banche che accompagnavano le sfide di questi piccoli imprenditori però erano banche piccole quindi l'intelaiatura era sicuramente il piccolo il modello dell'Unione Europea è un modello che sta dentro le dinamiche della globalizzazione io credo che soprattutto in futuro soprattutto in questo immediato futuro ci sarà una grande richiesta della tipicità della specializzazione di un qualcosa che è eccellente ed eccellenza in una parte di mercato allora lì noi saremmo già campioni del mondo perché andare dietro a un modello che nella globalizzazione ci fa perdere quindi conserviamo il nostro know-how conserviamo la nostra grande tipicità lei è mette in discussione la moneta unica mettete in discussione la moneta unica mettete in discussione il modello diciamo lo definiamo vincolante della vaccinazione riguardo alla alla questione del covid mettete in discussione l'invio delle armi all'Ucraina per difenderla dall'attacco dall'attacco russo non rischiate la sindrome del bastian contrario non è una sindrome del bastian contrario se non ci piace una via che è stata intrapresa che è intrapresa diciamo di no un tempo i nonni ci dicevano i no aiutano a crescere magari anche stavolta certi no che tra l'altro ormai sono forse minoranza perché nella nella retorica comune veniamo sempre etichettati con le peggiori etichette poi magari qualche no può avere anche il suo fondamento poi qui siamo andati a prendere tre no completamente diversi per descrizione il discorso della moneta unica io tante volte sono andato a a guardare con la lente di ingrandimento come una moneta unica con un tasso di cambio fisso possa reggere in un contesto di Unione Europea con forti pesanti asimmetrie fiscali e noi non è che lo scopriamo oggi questa cosa la conosciamo da tempo il passato presidente della Commissione Europea era Jean-Claude Juncker no della banca centrale della banca centrale no Jean-Claude Juncker no scusi ha ragione il lussemburghese era stato il presidente del lussemburgo e aveva attratto parecchi capitali attraverso la movimentazione premier lussemburghese con una fiscalità di vantaggio per il suo paese un vero e proprio dumping fiscale a danno anche delle imprese italiane questo io non ricordo ci fu un caso eclatante chiamato Luxe Leaks che portò allo scoperto anche imprese importanti italiane che trasferirono la sede fiscale in Lussemburgo allora io non posso avere che dentro l'Unione Europea ci sono paesi che mi fanno una concorrenza fiscale perché abbiamo già le multinazionali che attraverso i tax ruling cioè accordi fiscali precedenti all'ingresso nel paese concordano il gettito fiscale e provate a dire agli artigiani che le multinazionali possono fare questo tipo di accordo e all'artigiano invece non viene non viene scontato nullo anzi oggi deve fare i conti anche con cartelle esattoriali magari preghe esse magari anche maturate nel corso della prima della prima crisi del covid quindi io vedo delle profonde simmetrie e allora mi conviene oppure no secondo me non mi conviene poi il discorso dell'obbligo vaccinale ha un altro tipo di racconto di struttura politica diamolo per letto questo diamolo per letto che glielo risparmio mentre invece sulla guerra è importante capire cosa è sbagliato dal vostro punto di vista e cosa andava fatto diversamente e come se ne esce mi consento tanto di dire che sull'obbligo vaccinale noi siamo assolutamente contrari in assoluto a tutti gli obblighi vaccinali che vi sono e siamo per un modello di libertà di scelta sul caso specifico di questo vaccino parliamo del covid o in generale? no no in generale anche io andrei anche indietro rispetto alla legge Lorenzini del resto quando mi candidai con la Lorenzini per i ragazzi sì quando mi candidai con la Lorenzini questo era anche un tema del Movimento 5 Stelle poi non so come mai il Movimento 5 Stelle se ne scordò abbastanza in fretta quindi io andrei su un modello di libertà di scelta e questo tanto basta poi invece sul discorso di questo vaccino facciamo una commissione di inchiesta così almeno mecciamo incrociamo i dati e le informazioni e lo lasciamo ai medici che si confronteranno su una commissione di inchiesta sul discorso invece dell'invio delle armi io non credo e mi ostino a riprendere un discorso che avevo già fatto in aula attraverso le votazioni contrarie all'acquisto e all'invio delle armi intanto l'acquisto delle armi ancora dato da capire come mai questo acquisto avviene senza IVA tanto per fare un esempio oppure vorremmo capire da chi le stiamo andando a comprare con quali negozi giuridici e va bene questo è un certo discorso però è sul concetto di pace che non riesco a trovare la finalità per cui invide le armi ad un paese che tra l'altro ha nel suo corpo anche delle milizie irregolari che compiono la resistenza e agiscono in nome di una resistenza verso la Russia quindi non mi convince questo tipo di atteggiamento e se vogliamo uscire da una dinamica di conflitto io credo che occorra assolutamente costruire un tavolo di mediazione e far uscire mi consenta un po' la figura retorica presa da un grande romanzo far uscire dal mantello di Harry Potter gli Stati Uniti d'America il mantello di Harry Potter era quello che gli dava l'invisibilità gli Stati Uniti d'America devono uscire dall'ambiguità devono assolutamente scoprire il loro gioco far capire che tipo di finalità vogliono perché altrimenti questo conflitto maturerà sempre di più in Europa conviene? io penso di no perché dopo la prima traslazione del conflitto da un'area limitata poi Putin l'ha portato sul versante finanziario e ci ha fatto capire che in tutta Europa può con il mercato dell'energia coinvolgerci adesso con la minaccia nucleare l'Europa è fortemente e alcune aree soprattutto è fortemente minacciata se si mette su questo crinale secondo me questa guerra non sappiamo dove va a finire io temo fortemente una spirale negativa è un moto di accelerato uniforme verso il disastro senta Paragone la vostra posizione è chiara però come lei sa le dicevo di fatto è esattamente con l'approdo contrario rispetto alla gran parte delle forze politiche che sono ovviamente a favore dell'Europa a favore dell'euro a favore dei vaccini a favore dell'invio delle armi all'Ucraina c'è qualcosa su cui Italexit può avere delle convergenze con una parte delle forze politiche chiamiamole tradizionali e con quale? allora per esempio sui vaccini come faccio a pensare e a darvi ragione sul fatto che gli italiani siano d'accordo con i vaccini e sì si sono sottoposti ma perché obbligati alla vaccinazione e alla campagna vaccinale diverso sarebbe se ci fosse la libertà di scelta allora a quel punto io veramente firmo il consenso informato è una mia scelta allora si può dire che quel numero di vaccinati corrisponda ad una scelta compiuta e matura ma se sono obbligato e mi dicono che a over 50 per andare a lavorare mi devo vaccinare lo sappiamo benissimo che oltre i 50 anni se perdi il posto di lavoro qui non lo ritrovi più cioè non è che è una fantasia di paragone di Italexit è un dato di fatto che se esci dal mercato del lavoro in un'età che è over 50 tu non lo ripigli più quel lavoro allora se lo tengono stretti e chinano il capo sull'Europa io voglio ricordare che le due principali forze che quattro anni fa vinsero le elezioni il Movimento 5 Stelle e la Lega nell'ambito del centro-destra il Movimento 5 Stelle aveva raccolto le firme per uscire dall'euro e la Lega c'era Salvini che andava con le felpe basta euro e aveva candidato Borghi Bagnai Ladonato Rinaldi quindi le elezioni sono state vinte anche con queste parole forti ora ci ritroviamo con una platea importante di persone che evidentemente tradite non hanno ancora deciso se andare a votare e come andare a votare quindi non credo che questa gran voglia di Europa sia vistosa nel paese magari qualche criticità pesante credo che ci sia proviamola a raccontare Paragone ovviamente l'ha tirata lei con la citazione di quelle posizioni diverse che avevano avuto le due forze vincitrici di fatto delle elezioni di quattro anni fa che hanno dato vita poi anche al governo al primo governo della legislatura quello cosiddetto giallo-verde sono le due forze politiche in cui lei ha militato non è un segreto e certo non se ne vergogna cosa è cambiato in quelle due forze o cosa è cambiato in lei allora in quelle due forze il Movimento 5 Stelle secondo me non aveva una tesi convinta rispetto alla posizione dell'Europa ha tentato prima l'operazione referendum poi ha tentato una campagna elettorale dove nel programma c'era anche l'option out l'opzione di uscita dall'Unione Europea e dall'Unione Monetaria e poi hanno avuto paura il Movimento 5 Stelle ha cambiato totalmente pelle ma del resto lo dimostra anche il trasformismo più che la trasformazione dei protagonisti Conte è passato da un governo giallo-verde ad un governo col Partito Democratico in mezzo c'era stato all'elezione della von der Leyen quindi è strano che uno stesso presidente del Consiglio senza una fase di rottura passi da una tesi A alla tesi opposta la Lega non lo so devo dire la verità onestamente non riesco a capire la parabola di Salvini se non una parabola disperata ma quasi un'incapacità a elaborare un concetto politico lei pensa che dopo le elezioni ci potrà essere una ripresa di rapporti con quelle figure che lei ha citato che erano impegnate sulle battaglie riguardo all'euro ha fatto i nomi di Borghi Bagnai o altre figure che sono restate Salvini Salvini ha mollato una trincea e non può pensare di ritornare indietro perché queste cose in politica si pagano a caro prezzo poi quella casella viene di fatto occupata da qualcun altro il Movimento 5 Stelle con Conte io lo dico è fortemente critico Conte appare adesso come un Robin Hood per quel che mi riguarda Conte è quello che dopo la tragedia del Ponte Morandi non ha avuto il coraggio di revocare le concessioni autostradali ai Benetton è l'uomo che ha fatto fare le mascherine da consegnare nelle scuole al gruppo FC Auto del Agnelli Eccan quindi una di quelle grandi famiglie insomma tutto il contrario di quella che era stata la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle provate a pensare se il Movimento 5 Stelle e la Lega avessero fatto ci avessero detto in campagna elettorale quattro anni fa quello che poi hanno combinato in aula noi staremo dalla parte dell'Europa noi difenderemo gli interessi di Bruxelles noi faremo e difenderemo gli interessi dei Benetton degli Elkan e delle grandi famiglie cioè un racconto completamente diverso poi Conte è quello di di Arcuri Arcuri solo con Conte poteva essere super commissario a tutti una specie di supereroe della Marvel Contiana dal super commissario all'emergenza Covid all'ilva di Taranto passando per le primule vaccinali un delirio assoluto Senta in conclusione che abbiamo parlato tanto ma vale la pena dell'ultimo giorno è giusto dare l'adeguato spazio a tutti se lei dovesse indicare nelle liste di Italexit dei candidati emblematici per far capire cosa siete e cosa volete Giovanni Fraiese sicuramente è uno dei candidati di punta rispetto alla questione vaccini e Covid Stefano Puzzer interpreta stamattina ero a Trieste interpreta quello che è accaduto al porto di Trieste e interpreta anche le dinamiche di lavoro rispetto a nuovi padroni perché ormai si deve tornare a parlare di padroni mi riferisco agli ambienti delle multinazionali che sfruttano a norma di legge i lavoratori mi viene in mente Nunzia Schilierò mi viene in mente Raffaella Regoli che è una collega giornalista mi viene in mente Lina Manuali che è il giudice monocratico di Pisa che ha dichiarato per la prima volta illegittimi DPCM di Conte insomma queste candidature sono candidature importanti un altro è Dottor Stramezzi insomma io penso che al di là di tutto il lavoro che i ragazzi hanno fatto sul territorio maturando anche esperienze importanti ci sono delle candidature che rappresentano le sofferenze di una stagione che abbiamo recentemente vissuto soprattutto quella della pandemia ha indicato quasi esclusivamente nomi sulla frontiera della lotta contro il vaccino contro quella che voi chiamate la dittatura di vaccino mettiamo così Paragone va bene sì poi sai i titoli a noi vengono facili vabbè sì sì faremo noi talexit allora senta dove si troverà Gianluigi Paragone domenica sera quartier generale a Milano in sede in via dei Grimani e quindi ci collegheremo allora anche ci collegheremo anche con lei grazie mille buon lavoro grazie un buon voto soprattutto a chi ancora non ha deciso di sciogliere le riserve è importante andare a votare perché un 40% di estensione è una spia rossa sul cruscotto della democrazia grazie grazie Gianluigi Paragone ci fermiamo